Dove dimorano i vichinghi di Jomsburg? Nessuno sa dove vivono. Sappiamo soltanto che i credenti delle antiche usanze che giungono a questa spiaggia saranno portati verso una nuova Uppsala chiamata Jomsburg. Quindi ti hanno semplicemente trovato qui? Odino li invia come le valchirie per portare tutti in salvo! E se sono fortunati, anche per vendicarsi dei cristiani come voi! Ma no! Padre l'ordine! Sì, sì! Per diventare re, dovrete insanguinare la vostra spada. Mandate questo pagano all'inferno! Mandate il messaggio che abbiamo noi il controllo! No!